Carissimi amici del Circolo Laudato Si di San Giorgio in Bosco, è un piacere rivolgere un cordiale saluto a voi e a quanti partecipano alla terza edizione di Cinema per il Creato, dedicata quest'anno all'interessante tema Nutriamoci di bellezza e amore, energie per salvare il mondo. Il titolo è molto significativo ed è di particolare attualità, nel preoccupante contesto storico in cui siamo immersi, caratterizzato da conflitti, egoismi, indifferenza, incapacità di ascoltare l'altro, di vedere le grandi opportunità che si schiudono a noi con il semplice atto di collaborare insieme, di interagire nel rispetto reciproco e nella consapevolezza che, come più volte sottolineato da Papa Francesco, tutto è interconnesso. Questa profonda interconnessione ci conduce alla graduale consapevolezza che facciamo parte di un'unica interdipendente famiglia umana. Le decisioni e i compartamenti di uno dei membri di questa famiglia hanno profonde conseguenze sugli altri. Non vi sono frontiere, mura politiche entro le quali potersi nascondere. Non vi è spazio per quella globalizzazione dell'indifferenza, per quell'economia dell'esclusione, per quella cultura dello scarto così spesso denunciate da Papa Francesco. Una consapevolezza che richiede una trasformazione nelle politiche internazionali, così come nei nostri comportamenti quotidiani, volta a favorire in entrambi i casi un cambiamento dei modelli di produzione e di consumo, degli stili di vita sempre più improntati a un'attenta cura della nostra casa comune. Laddove è bene ricordarlo, quando parliamo di casa comune non dobbiamo pensare solo all'ambiente nel quale interagiamo, ma anche a coloro che abitano questa casa e vivranno in futuro. Ecco quindi che questa cura della nostra casa comune si estende alle nostre responsabilità anche del nostro prossimo, sia esso vicino o lontano nel tempo e nello spazio, e nei confronti di Dio che ci ha affidato il creato, affinché lo custodissimo e lo coltivassimo per essere parte del suo progetto creativo. Dice Papa Francesco, nella Laudato Si, «La persona umana tanto più cresce, matura e si santifica, quanto più entra in relazione, quando esce da se stessa per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Così assume nella propria esistenza quel dinamismo trinitario che Dio ha impresso in lei fin dalla sua creazione». Si fatta trasformazione responsabile dei nostri comportamenti non può avvenire che attraverso una conversione ecologica integrale. Oggi, in quest'ultima settimana di Quaresima che si schiude nella Settimana Santa di fronte al mistero del crocifisso risorto, l'atteggiamento di conversione acquisisce una connotazione ancora più particolare. D'altronde, il nostro percorso di conversione va alimentato attraverso i due temi che sono al centro della vostra iniziativa, bellezza e amore. Dall'intimo di ogni cuore, l'amore crea legami e allarga l'esistenza quando fa uscire la persona da se stessa verso l'altro, afferma Papa Francesco nella Fratelli Tutti. È importante poi continuare a mantenere una viva attenzione sulle meraviglie del creato e sulla loro custodia e valorizzazione, riconoscendo la bellezza che ci circonda e rafforzando quell'alleanza tra essere umano e ambiente che deve essere specchio dell'amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino, come riflette Papa Benedetto XVI nella Caritas in Veritate. D'altronde, solo tramite il riconoscimento della bellezza di quanto è stato creato e da cui siamo attorniati, possiamo esserne grati. Solo tramite la gratitudine per il creato possiamo concepirlo come dono da consegnare a coloro che verranno dopo di noi. Solo tramite il riconoscimento del dono che ci è stato fatto ci verrà spontaneo prendercene cura e quindi passare dalla cultura dello scarto, attualmente preponderante nella nostra società, a una cultura della cura, come espressione della nostra conversione ecologica integrale. La cultura, infatti, non va solo intesa come i monumenti del passato, ma specialmente nel suo senso vivo, dinamico e partecipativo, che non si può escludere nel momento in cui si ripensa la relazione dell'essere umano con l'ambiente, così Papa Francesco nella Laudato Si. D'altronde, sempre nella stessa enciclica, il Papa è molto chiaro in questo, quando ci dice che la cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale, all'esaurimento delle riserve naturali e all'inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forme ad una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico. Ecco perché contraddistingue questa conversione ecologica con l'aggettivo qualificativo di integrale, che richiede un pensiero e uno sguardo diverso. Un cambiamento che oggi è essenziale e che passa attraverso l'azione di ciascuno di noi, a cui deve però seguire un'azione comune. La conversione individuale deve infatti essere accompagnata da una conversione comunitaria, attuando un dialogo a livello locale, così come internazionale, che promuova un reale sviluppo umano integrale e sostenibile e favorisca un'educazione all'ecologia integrale, capace di assumere un nuovo sguardo e di valorizzare la forza propulsiva della bellezza e dell'amore. Mi congratulo con voi per questa bella iniziativa e vi incoraggio vivamente a procedere con gioia lungo questo sentiero della conversione ecologica integrale, augurandovi una fruttuosa celebrazione della Settimana Santa e una gioiosa Pasqua di Ressurrezione. Grazie a tutti.